Stalking e maltrattamenti sulla ex, le accuse che sono costate la custodia cautelare in carcere a un nisseno di 35 anni, arrestato dai carabinieri su disposizione della Jeep Valentina Balbo. L'episodio che ha consentito ai carabinieri di ricostruire una vicenda piuttosto articolata risale al 14 agosto scorso, quando l'indagato ha incrociato per strada, in auto, la ex e il nuovo compagno, iniziando a inseguirli per le vie della città, riuscendo poi a raggiungerli e tagliando loro la strada, costringendoli a fermarsi. L'uomo a quel punto era sceso dalla vettura, salendo sul cofano della vettura di colui che vedeva come un rivale e colpendo il parabrezza con calci e pugni. Episodio che era stato pregeduto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che hanno raccolto la denuncia delle due persone offese, da un prologo piuttosto complesso. L'indagato e la ex avevano iniziato una relazione nel 2009, chiusa da quest'ultima nel marzo scorso per il crime insostenibile che era costretto a sopportare. Innanzitutto gli insulti di ogni genere che lui le rivolgeva, per arrivare agli schiaffi e anche a strapparle di dosso un capo di abbigliamento ritenuto troppo appariscente, costringendola a cambiarsi. Tra le vicende contenute nel capo di imputazione per i maltrattamenti, anche l'episodio in cui fece schiantare volontariamente l'auto mentre era in macchina con la stessa ex. Una volta che la donna aveva deciso di mettere fine alla loro storia, sarebbero iniziati gli episodi di stalking sia nei confronti di lei che del nuovo compagno. Quest'ultimo, secondo la ricostruzione investigativa, era già stato vittima di un altro inseguimento ed era anche stato colpito con due schiaffi al viso, per poi sentirsi dire di lasciare stare la donna. L'arrestato gli aveva anche inviato via social la foto di una sedia a rotelle. L'indagato, sempre secondo l'accusa, non aveva risparmiato nemmeno nuovi insulti e minacce vari alla ex, compresa quella di sfregiarla con l'acido. Nelle prossime ore, l'indagato, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini, sarà interrogato dalla GIP Balbo.